Buongiorno, buongiorno, e anche questa mattina si corre al bagno, buongiorno, oggi ce l'ho fatta svegliare per andare a correre, però corso per andare al bagno, martedì mattina, no, vabbè, anche questa mattina sta pieno, mamma mia, pieno di figa, veramente pieno. Fica, 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 tutto bene, fica, tutto bene, fica, 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 tutto bene. Eccoli. I cuccioli dormono, non li svegliamo stamattina, anche perché abbiamo 5 giorni da passare insieme. Hai avuto paura prima? Ma a me stava prendendo attacco le cose. C'è stato un video che non ho mai potuto pubblicare perché era nudo. Mariano Pisa, l'era il pisa, sono nudo, c'è Mario Pisa. Non c'era che si fredda il sushi, mamma mia, no. Ho comprato sta maglietta. Pensavo che ti avrei vestito male. Ho comprato sta maglietta. Hai speso da alcuna? Sì, è la reggisciata. No, è teppi. Grazie, Alvaro. E poi manda una per me. Amici come te. Mandigli una maglietta, per favore, perché ogni volta che c***a me l'ha anche una. Grazie, Alvaro. Sta maglietta è veramente fenomenale. Grazie mille. Grazie. Magliettina. Grazie, Alvaro. Grazie, Alvaro. Grazie, c'è scritto Alvaro. Che si fa uno? Sta di c***o. Che è? Sta tendo a mettere le mani perché ti ti chiappano. È arrivato il pesce? Eh, se ti chiappano con quelle pizze. Che ti fanno? Ah beh, metteci il dito. Che ti fanno? Metteci il dito che tu non senti. Metticelo. Metticelo. Metticelo il pistolo. Sì, nel mio uomo non c'è il mè che a me mi serve. E che c'era a fare? Capisco. Dice che non c'è voglia. C'è voglia. Si è tornato il coccodrillo. È super felice perché lui sa che questi giorni starò con lui a partire... Eh no, è questo il pensiero mio. Da domani mattina. Ma l'ha detto anche quella prima. Staremo insieme. E' da fermo, Calimato. Domani faremo un bel presepe. Ma che be'? Fiamo il presepe. Levo il presepe con io, capire? Fiamo il presepe. Sì, bucciotti, vai a piegare. Fiamo il presepe. Fai bravo. Fai bravo. Fai bravo. Fai bravo. Sempre scontroso l'amico mio. Molto, molto scontroso. Molto. Ehi. I bambini stavamo tanto insieme. Eh, quel che mi ha dato il culo un mese. Ma perché? È perché sì, ti volevo andare a piegare. Non è andato? Vuoi andare a piegare? A fare? Ti sacco di coccodrillo, porca maniera. Ah. Ti vieni anche di qui? Ma voglio farla anch'io la pipì con te? Fammi fare la pipì con te. Fammi fare la pipì... Cacco di coccodrillo. Non fuori. Non fuori, venite! No! Fammi fare la pipì con te. Oh! Ragazzi, c'è un piatto che mi piace particolarmente. È il fegato alla veneziana. Questa persona sta facendo una vita da vent'anni, è un vent'anni. È vero, no? È vero, no? È vero, no? Che sta facendo questa persona? Il cazzo sugo. Eh? Che sta facendo? O no? Te lo dici? Il cazzo sugo. Di solito, gli attori, come prima, stanno sempre in piacere. Che fai? Che fai? Arzuchio, no? Carzuchio. No, sì. No! Se basta, ti lancio a pazza, io voglio dire a chiunque. Come sta? Sta in punta, in punta, eh? Eh? Come sta? Oh, bella! Manneggia il bambaccio. Ah! Ah, io ho. Ma che cazzo sta facendo? Fermati! Fermati, Federino, fai le... Fermati, tiralo! Senti che ti ha detto! Strono! Ma smettela! Eh? Senti che ti ha detto piacere. Ma non ho capito che... Sto testa da cazzo! Sta tirando, oh, ti rompiti questa! Ah! Smettela, che ti ha il tirato! Al volo! Manneggia la... Eh! No! Ti chiamo? Rispondi! Ti chiamo? Io rispondo a me. Mi hai chiamato? Perché rispondi? Perché sei un ostroggio. Perché? Coccodrilli, buonanotte! Vado a dormire. Domani sarò super carico perché... Mi sveglierò a casa. E starò sempre, o quasi sempre, con il nonno. Quindi... Staremo a vedere che combino. C'ho in mente già qualcosa, ma... Staremo a vedere. E vi auguro una buonanotte. E mi raccomando, anche perché domani, ragazzi, sicuramente sta pieno. Io ve lo dico, cioè, dopo fate come cavolo vi pare, fate i scettici, sta pieno. Non sta pieno. Per me domani sta pieno. Grazie mille che ci siete sempre. Il vostro capitano non poteva essere un capitano senza una squadra come la vostra. Quindi siete i numeri uno. E voglio bene. E non fate gli stronzi con la S più grosso e spiegadoro. Grazie mille.